Un saluto dal Tg della mobilità. È scattata alle 10 la seconda fase dello sciopero del trasporto pubblico indetto dalla sindacato USB. Fino alle 17 saranno possibili stop su bus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie urbane Romalido, termini 100 celle Roma Civita Castellana Viterbo. Possibili stop anche sulle linee bus periferiche e sulle corriere extraurbane. L'agitazione infatti lo ricordiamo interessa ai lavoratori di Atac, Roma TPL e Cotral. Dalle 17 alle 20 i servizi saranno assicurati, poi questa notte saranno a rischio le corse prolungate delle metro, quelle della tramotto e le linee sostitutive serali della metropolitana. Non sarà inoltre garantito il servizio di 15 linee di bus, normalmente in strada fino alle 2 di notte.